Ciao, mi chiamo Marco, ho 25 anni, ho fatto liceo scientifico, quindi saluto tutti i liceali. Sono qui per parlarvi della misericordia e della vocazione, non in senso teorico, ma una testimonianza di come io ho fatto esperienza di queste cose. La prima cosa che mi è venuta in mente quando mi hanno detto questa cosa qui, è un sacerdote anziano da cui io andavo a confessarmi quando ero alle medie, i primi anni delle superiori, e lui mi diceva sempre che Dio ti vuole bene. Io dopo un po' mi sono anche un po' stancato di sentire questa cosa, sapevo quasi già cosa mi diceva. Però questa è la prima cosa che voglio dirvi, che a te che ascolti questo video, Dio ti vuole bene. Io ho fatto questa esperienza veramente nella confessione. La seconda cosa che vorrei testimoniarvi è questa, che io ho fatto esperienza che Dio mi vuole bene, mi voleva bene negli aspetti più feriti della mia vita, che erano i desideri più grandi che avevo. Se penso a quando facevo il liceo, ai miei affetti, alla ragazza con cui stavo, alle esperienze che facevamo, io penso che lì c'era il mio grande desiderio di amare, di essere amato e di amare. Però c'erano anche i miei grandi sbagli, ecco, e il mio egoismo. E proprio lì Dio vuole amarmi, ecco, ha voluto amarmi. E questo, ecco, è quello che voglio veramente testimoniarvi. Per cui, coraggio, non fatevi buttare giù dai fallimenti, ma credete, abbiate fede che Dio vi ama così, ecco. Concretamente questo, ho fatto la predicozza, si può fare esperienza nella confessione. Per cui fidatevi e buona vita. Ciao.